Siamo ridosso delle europee, glielo dico con rammarico, ma è un argomento di cui si discute molto poco. L'Europa ormai è un'opportunità, io incontro gente che arriva da tutto il mondo e dall'Europa, ma non c'è più il problema di essere francese o italiano. Beh, però guardi, la stessa sensazione che purtroppo voi avete dell'Italia e delle istituzioni italiane ce l'abbiamo tutti nei confronti dell'Europa. O cambia l'Italia e quindi la dobbiamo cambiare nel modo con cui stiamo cambiando o l'Italia muore. O l'Europa cambia o muore l'Europa, perché se noi la percepiamo solo come l'Europa dei burocrati che ci fanno rispettare le regole e che ci uccidono e che ci dicono che dobbiamo fare il patto di stabilità, il rigore eccetera, e non diventa un'opportunità per tutti l'Europa. Noi la sentiremo sempre più distante e il 25 maggio vinceranno quelli che la protesta, quelli che non vogliono le Euro eccetera. Però noi possiamo l'Europa farla diventare un'opportunità se l'Italia sarà più forte in Europa, se no non ne usciamo più anche lì. Adesso cosa facciamo? Ritorniamo dall'Euro alla Lira, così tutti i nostri mutui che ogni famiglia ha contratto alla fine li pagheremo 3, 4, 5 volte tanto e come al solito pagheranno i poveri o quelli più deboli e invece i più ricchi ne avranno vantaggio. No, dobbiamo cambiare l'Europa innanzitutto partendo dal fatto che come facciamo la lotta alla burocrazia in Italia la dobbiamo fare anche all'Europa. Elezioni europee. Si vota solo nella giornata di domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23. Nella circoscrizione Nord-Ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, barra il simbolo del nuovo centrodestra e scrivi lupi come preferenza.